In questo nuovo video noi siamo di For Play e Zita Oggi siamo qua giù per un chest opening su Clash Royale E anche egg opening di tre uova Una da dieci e due da cinque da nostro cameraman E poi anche un altro chest opening di un altro nostro amico Che ora non si riprende il video, lo vedremo a vedere dopo Like per la nonnetta Vieni Iniziamo dal baule d'argento Un gigante Sette arcieri Uno stregone Sette scheletrini Sette spiriti del fuoco Una valchiria Ora dei baule omaggio Due gemme Una valchiria Sette scheletrini Ora quello del torneo Cinque goblin lancieri Due moschettieri Un arco X Ora Sempre il baule omaggio Due bombaroli Sei barbari Baule d'oro Una torre infernale Una scarica Quattordici scheletrini Due sfere infocate Ultimo Ultimo baule Il baule della corona Due gemme Tre scheletrini Tre sgherri Cinque arcieri Cinque giganti No 39 goblin lancieri Vabbè Ora la farò io Cominciamo col baule d'argento 53 di oro Vabbè Normale Moschettere che non mi serviva assolutamente Spirifuoco che non mi servivano Vabbè Pure la connessione di merda E 71 di oro Buono Gigante Vabbè E i barbari che non mi servivano Vabbè 75 di oro Una capanna gauling Di merda E 8 barbari Vabbè Ora no Prima il baule No Prima il baule del torneo Cinque bombarolo Due razze E qua giù ci sta Una epica Ah Vabbè Una mongua Ora qua giù con il baule della corona Ultimo baule Ah buono Non ce l'avevo il gigante roe Perché sono salito da poco in arena 7 No E la rara No Vabbè Mi servivano Ora è lì Ora questo nostro amico Apriva bauli Allora il baule omaggio Oro Gigante Nave mortali Oro Un domatore buono Che me lo voglio portare al 7 8 scarica E la veleno E la veleno Poi andiamo con i baule d'argento Ecco Oddio che culo va Uno grider Buono Orde di sgarri che non uso Oro Uno strigone E 8 tesle Poi il baule d'oro Dell'arena 8 Uno gol in lanciari Sette giganti royale Due strattori 19 arciari Oddio Poi Vado con il baule del torneo Oro 11 gol in lanciari Varile gold E il baule della corona Gemme Barbari Scheletri Bumbarola E Sedomatori Vai ora io Me ne mancano 8 ora Ora inizio con il baule Maggio Oro Gemme Non ce l'avevo E Cannone Sfera Che schifo Poi E Omaggio Un'altra volta Oro Valkyria Scherzi Madonna santa Poi quello oro Oro Goblin Lanceri Sgarri Cannone Domatore Buono Buono Almeno Buono Grazie Eli Poi ci va con il culo della corona Speriamo di avere culo Meno in questo Gemme Mortaio Non mi serviva No Tesla Oh L'epica L'epica La leggenda Va bene Mi va bene Anche Tesla Ora comincerò io Finirò io Con il mio secondo account Cominciamo col baule d'argento Dopo questo Sparmerà un po' Ego Pene Vabbè Buono Gigante Royale Gemme Valkyria Mortaio Vabbè Come l'altra volta Mortaio Vabbè Sfara un focato Eh Il gigante Royale Vabbè Ora prima Baule della corona Perché poi farò Baule del torneo Da 30 carte Buono Il tre moschettini Non li avevo Oddio l'epica Oddio l'epica Leggendaria No No Che merda Aspetta Aspetta Poi c'ho Il baule del torneo Primo Da 30 carte Tre carte e basta Che schifo No Che schifo Oddio C'è l'epica Che epica Leggendaria Io lo spero Nelle guardie No Che schifo Pensavo che La dovevi sbloccare Dani c'ha due baule maglie Con il secondo profilo Anch'io Prima Devo l'omaggio Sono pochi Però vabbè Uno da disgherri Cinque scheletrini Vabbè Arena 4 Speriamo di trovare il mastino Cinque goblin E una rapida Che schifo Però Dai qui il mastino Quattro goblin Cinque cannoni Sei frecce E due torri bombardia Ora apriamo Il nostro camera Farà un egg opening Prima guavo Da cinque No da dieci Prima guavo Non ci sa da quant'è Vabbè Speriamo in bene Vai 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 Pigeo Non po' Buonito Buono Alla cinque Quanto è 794 In futuro Farmo pure Poco lungo Forse No Officiale Officiale Da cinque Da dieci Vediamo Cos'è Da dieci Che schifo Che schifo Dai Fante Che Ultimo Vuolo Quello da cinque Dai mister Mai Tra un bel altro Non è distrutto Ma forse Un po' Di meno Da Che è buono Va bene Dai Per chi è inglese Ora sparla un po' Mi volvo Ibi si è sempre Questo capello L'abbiamo creato da poco Abbiamo avuto più Problemi con i video Sì Alcuni problemi con i video Perché Per la connessione Perché non c'è tanto campo Qui Avevamo fatto Altri due video Però non sono Certi caricati Uno Un cesto opening Sì Un cesto opening Che abbiamo fatto Noi Che abbiamo fatto Sì Lo stiamo mettendo su YouTube Andate a vederlo Cliccate mi piace E iscrivetevi In futuro Se ne avete già fatto In futuro Faremo pure Qualche crossbar challenge O che ne so Free kick challenge Qualcosa del genere Ok Stiamo a fare un intro Se qualcuno Dove sa Come farla C'è alcuna Schipta In descrizione Cioè Comment Allora Iscrivetevi E lasciate un bel like Che io Davide Elia Ilias E Daniele Ci vediamo nel prossimo video Bella Ciao a tutti 早iamo